Doppione di Candreva e poi vedete oggi come lo ha schierato al posto di Candreva lo ha schierato Pioli e poi Joao Mario che è il doppione di Brozovic. Allora io dico che probabilmente tutto questo fattore positivo dovrà fare poi i conti con una maggiore, guarda che se continui così, giuro, non ti faccio più parlare, giuro, allora facciamo così, allora io adesso quando tu parlerai non parlerai più, va bene, non parli più, adesso non parli più, adesso non parli più, Adesso non parli più, adesso non parli più, devono venire i carabinieri, faccio venire i carabinieri in trasmissione, tu non parli più, non parli più, mai più.